Con lo scopo di realizzare un video a titolo informativo, abbiamo intervistato diverse persone, sia studenti che insegnanti. Abbiamo chiesto loro di esporci informazioni, opinioni ed esperienze riguardo al tema della disparità di genere e le discriminazioni che questo comporta. Vi presentiamo dunque la riproduzione grafica delle storie più significative. Una volta mi è capitato di essere toccato per strada, stavo camminando con mio padre e abbiamo incontrato un suo amico che al posto di salutarmi normalmente ha preferito toccarmi il fondo schiena. Io sono rimasto pietrificato e mio padre lo ha guardato malissimo ma abbiamo preferito tralasciare. L'estate scorsa lavoravo in una farmacia e un giorno è entrato un signore che mi ha chiesto di vendergli una siringa. Io ho risposto che non avevo le competenze per poterlo fare ma lui insisteva. Così ho chiamato il mio responsabile che ha fatto quello che poteva per calmarlo e mandarlo via. Qualche giorno dopo salendo sull'autobus per andare da un amico ho riconosciuto l'uomo. Io avevo un vestito sopra il ginocchio e lui ha cercato più volte di guardare se sotto indossassi l'intimo. Io ho cercato di ignorare il suo sguardo e dopo essere scesa dal bus mi sono accorta che lui mi stava seguendo, camminava dietro di me. Ho cominciato ad accelerare e per fortuna mi sono subito trovata con il mio amico. Posso dire di aver avuto veramente paura. Ci trovavamo in un bar ed una mia conoscente è stata interrotta da alcuni uomini di presenti che l'hanno insultata dicendole che, essendo donna, non poteva parlare di certe cose e che non aveva il diritto di affrontare determinate tematiche perché questioni solamente da uomini. Lei ha risposto dicendo che non c'era alcun criterio valido per stabilire cosa fosse da uomo e cosa fosse da donna e che si sarebbe sentita libera di esprimere il suo punto di vista su qualsiasi argomento senza che nessuno glielo potesse impedire. Secondo i dati che abbiamo raccolto all'interno della nostra scuola, il 52% dei ragazzi non ha mai subito discriminazioni di genere, mentre l'80% delle ragazze ha subito discriminazioni di genere. Il 57% dei ragazzi è favorevole all'equaterosa e il 69% delle ragazze è favorevole all'equaterosa. Mentre l'83% delle ragazze si sente a disagio oppure ha paura di tornare a casa la sera, il 100% dei ragazzi si sente al sicuro. Il 67% dei ragazzi è convinto che ci siano pari possibilità di realizzarsi in ambito lavorativo tra uomo e donna e invece il 33% delle ragazze è convinta che ci siano pari possibilità tra uomo e donna di realizzarsi in ambito lavorativo. Solamente al 18% delle ragazze è stato mai chiesto di accompagnare qualcuna a casa per questioni di sicurezza, mentre questo è stato chiesto bene al 75% dei ragazzi. Il 74% dei casi è solo la madre a svolgere i lavori domestici in casa. Il 74% dei ragazzi è solo la madre a svolgere i lavori domestici in casa.